Allora il 10 ottobre 2015 stiamo lasciando la stazione di benzina a bordo di questo motocarro che ci porta nel mezzo della foresta guardate che cosa rischia per voi il vostro reporter con una gamba sola in equilibrio sul dito mignolo del piede sinistro con il prezioso iphone tra le mani guardate il nostro chauffeur guardate la foresta vergine no non è vergine scusate è sposata è la foresta sposata guardate che bello almeno voi che potete guardate la mannaggia vento profumo molto bello guardate i nostri compagni come impertereti stanno seduti su questo traballante mezzo e io rischio la vita per loro guarda la testa del motociclista è una bella è una bella testa bene è stato troppo emozionante alla prossima